E' andato in archivio il primo mese della stagione regolare della MLB 2021 e dunque è tempo per il mio canale di tornare con le review per dare un'analisi alle prime classifiche della stagione, alle prime statistiche e a soffermarci su qualche giocatore caldo in questo momento per fare il primo recap della stagione MLB. Un recap che sarà di cadenza mensile e lo troverete sempre su questo canale all'inizio di ogni mese. Aprile nel meraviglioso gioco del baseball è un mese puramente poco indicativo soprattutto in una stagione come questa che è tornata a essere completa di 162 partite dopo che l'anno scorso la stagione 2020 fu di sole 60. Per darvi un'idea le prime 30 partite che sono giocate in questo primo mese di aprile sono state appunto la metà stagione del 2020, qui invece parliamo proprio della prima porzione di stagione eppure nonostante aprile sia un mese poco indicativo ci sono delle sorprese e delle cose di cui parlare e dunque ancora una volta benvenuti all'appuntamento mensile con le Major League Baseball Review. Prima di entrare nel merito del video però mi permetto di fare un piccolo inciso personale qui sotto in descrizione oltre il mio secondo canale e la mia pagina Facebook dove vi tengo aggiornati con tutti i miei video e tutte le notizie a riguardo vi lascio un ulteriore canale in descrizione, un canale che parla di baseball, vi lascio il link alla Baseball Family, un canale che ha deciso di portare il mondo del baseball su YouTube Italia in un modo completamente diverso e originale. Sono veramente un'intera famiglia di ragazzi devoti al meraviglioso gioco del baseball, ho visto i loro video, sono video molto genuini, sono tenuti veramente bene da un punto di vista tecnico e anche dal punto di vista contenutistico, i vlog di presentazione li ho trovati veramente molto coinvolgenti così come ho trovato molto coinvolgente il documentario che di fatto si sono autoprodotti su Gio di Maggio, una delle leggende e delle icone di questo sport. Il canale della Baseball Family è qui sotto in descrizione e dunque passate a iscrivervi anche al loro canale, un canale veramente veramente meritevole. Detto questo andiamo subito a bomba con le prime classifiche della stagione MLB 2021 partendo come al solito dalla American League East, una conference per usare un termine preso da altri sport americani che di base è molto meno equilibrata rispetto alla National League e un po' questa cosa si vede già nel primo mese di stagione regolare, nel mese di aprile. Nell'American League di solito sono presenti sempre poche squadre veramente competitive e possiamo raffigurarle sulla carta, anche questa stagione era così come Yankees, come White Sox, come Minnesota, come Houston, come la stessa Oakland che comunque è tornata dopo una prima parte di mese di aprile veramente deficitaria con altre squadre che se la possono giocare per arrivare alle famose otto alla quota playoff. Discorso diverso invece in National League dove evidentemente ci sono dieci squadre competitive che possono partire più o meno con ambizioni se non di World Series quanto meno di playoff. L'American League East è già una division comunque da analizzare perché è oltremodo sorprendente perché in prima posizione ci sono i Boston Red Sox con 17 vittorie e 10 sconfitte. I Boston Red Sox sono una squadra che ha infilato una serie di vittorie consecutive, la streak più lunga del mese di aprile è arrivata a quota 9, è una squadra che non partiva in realtà con tutti i favori del pronostico. Sulla carta ovviamente era una squadra un po' nella terra di nessuno, una squadra che se azzeccava alcune incognite all'inizio stagione evidentemente poteva fare qualcosa di molto importante e per il primo mese di aprile effettivamente queste prevesse importanti si sono concretizzate perché avere già un vantaggio di tre partite e mezzo sulla seconda seppur si è il primo mese è di certo un buon indice di una partenza sprint. In seconda posizione ci sono i Toronto Blue Jays, squadra che comunque anche loro erano partiti piano nell'opening week e poi si sono risollevati arrivando a un onesto record di 12 vittorie e 12 sconfitte. Tutte le altre squadre, quindi la Tampa Bay in giù, sono al di sotto del 50% di vittorie, Tampa Bay leggermente perché parliamo di 13 vittorie e 14 sconfitte. Appena dietro ci sono i Baltimore Orioles con 12 vinte e 14 perse, stesso record dei New York Yankees che appunto di fatto occupano la quarta posizione ex equo della American League East. Il fatto che sia Baltimore che i New York Yankees siano lì è effettivamente sorprendente per due motivi opposti. Baltimore è sempre stata pronostiegata da tutti come una squadra in piede a rifondazione, in tanking puro e doveva occupare sulla carta l'ultimo posto della division, già a partire dalle prime battute di questa stagione regolare. Gli Yankees invece sono una squadra che possono effettivamente puntare a qualcosa di più di playoff e l'obiettivo dichiarato sono le finals e nella diciamo ipotesi generale anche le World Series perché si parla sempre di Yankees e qualunque cosa inferiore alle World Series per gli Yankees è un semifallimento. Vista anche l'ambiente che c'è in quella sponda di New York, certo che la squadra dei Bronx Bombers effettivamente sta mancando in questo inizio di stagione. Certo, come ho detto già più volte in questo video, aprile è un mese che conta fino a un certo punto, però gli Yankees sono effettivamente una squadra che hanno avuto anche per un po' del mese di aprile il record peggiore di questa MLB. Quindi è una cosa che era già capitata, era capitata nel 1998, stagione che in quell'anno per gli Yankees in realtà si risolse positivamente con la vittoria del titolo nelle World Series del 1998. Qui gli Yankees ovviamente sperano di ripetere questo exploit, al momento però le premesse non sembrano delle più rose e appunto il fatto di essere ex-sequo con una squadra in puro tanking questa cosa fa effettivamente riflettere. C'è la sorpresa anche nell'American League Central perché i favoritissimi Kansas City Royals sono in testa della division, squadra che obiettivamente non era pronosticata da nessuno. 15 vittorie e 9 sconfitte addirittura per la squadra che vinse il titolo nel 2015, ci sono i Chicago White Sox invece alle spalle dei Kansas City Royals con 14 vittorie e 11 sconfitte. I Cleveland Indians sono terzi a 12 vinte e 12 perse, deludenti invece i Minnesota Twins con 9 vittorie e 15 sconfitte a una sola partita di fatto di distanza dai Detroit Tigers che appunto sono 8 vittorie ma 19 sconfitte. I Tigers è giusto in realtà che stiano lì perché non avevano queste ambizioni alla vigilia della stagione, è deludente Minnesota perché sulla carta il duello dell'American League Central è Minnesota Twins contro Chicago White Sox con i Cleveland Indians appena sotto. I Cleveland Indians sono giustamente terzi, i Chicago White Sox sono giustamente secondi, sorprendono in positivo i Kansas City Royals delle meraviglie che facevano appunto le loro fortune qualche anno fa con il gioco small ball. Minnesota invece è partita male ma abbiamo già visto come effettivamente le partenze non sprint spesso possono portare a qualcosa di positivo. Certo fa abbastanza specie vedere una squadra con così tanto potenziale pronosticata nei primi dieci post del ranking della MLB all'inizio della stagione fare così tanta fatica con partite rimandate, casi di covid e anche un meccanismo che diciamo non sta ingranando in queste prime battute di MLB 2021. C'è però un altro evento fondamentale da registrare in questa National League. L'elemento però più importante da registrare in questa division è una no hit fatta dai Chicago White Sox ed è la seconda no hit di tutta la MLB. Quindi fino a questo momento diciamo una no hit tradizionale e dopo capiremo perché ha usato questo termine una no hit effettuata dal lanciatore dei Chicago White Sox Carlos Rodon, uno dei giocatori più in forma della squadra della Southside di Chicago. Una no hit lanciata due settimane fa contro i Cleveland Indians quindi in uno scontro diretto di division. Carlos Rodon ha di fatto portato a casa la sua partita con una vittoria 8-0 contro i Cleveland Indians. 114 lanci per Rodon in questa partita che ha silenziato l'attacco della squadra dell'Ohio. Veramente è il punto più massimo della carriera di questo lanciatore. Un lanciatore di 28 anni che dopo tanta gavetta sempre nei Chicago White Sox quando la squadra di Chicago era una squadra a terra di nessuno o anche addirittura in tanking. Insomma fa capire come abbia aumentato di livello le prestazioni il lanciatore della Florida. Una vittoria peraltro netta dei Chicago White Sox appunto come dicevo 8-0 con uno scontro anche molto interessante sulla carta perché i Cleveland Indians dall'altra parte schieravano Zach Plisak, uno degli acquisti più importanti della formazione di Cleveland. La Norodon appunto però ha silenziato da solo l'attacco degli Indians in una partita per la verità già indirizzata perché come vediamo fin dalla prima ripresa i Chicago White Sox avevano infilato 6 punti. Soprattutto per via aerea vedendo per esempio il fuoricampo di Mercedes al primo inning un fuoricampo da 3 punti che subito ha indirizzato la partita. U.M. Mercedes peraltro è uno dei ruchi terribili dei Chicago White Sox, un giocatore veramente potente che ha delle statistiche assolutamente allucinanti ma ovviamente è una squadra che ci si poteva aspettare con giocatori di altro prospetto. Per esempio José Abreu, per esempio Eloy Jiménez che però è in lista infortuni e prima di giugno ovviamente non lo vedremo in campo eppure in mancanza di questi giocatori fondamentali ci pensa il ruchi Mercedes con una stagione veramente di grazia di cui adesso andiamo a vedere le statistiche. I.M. Mercedes appunto dicevamo è un giocatore classe 93 della Repubblica Dominicana e le statistiche sono spaventose 415 di media battuta 5 fuoricampo 16 RBI è sicuramente il ruchi del mese di aprile il giocatore dominicano ed è appunto un altro giocatore su cui i White Sox possono sicuramente diciamo basare il proprio core. E appunto oltre a lui c'è anche Carlos Rodon che appunto ha fatto la sua no hit ma in tutto questo Rodon ha delle statistiche veramente allucinanti perché la media IRA del giocatore della Florida è questa 0.72 una media di assoluta eccellenza quasi da Valhalla non ha ancora perso una partita il lanciatore Carlos Rodon. 4 vittorie in 4 partenze una no hit appunto è lanciata col Cleveland Indians e la più bassa media PGL della American League 0.72 per dirvi quanto questo parametro sia fondamentale nel mondo del baseball basti pensare che se un lanciatore ha una media diciamo inferiore ai 3 in MLB è un ottimo lanciatore sui 2 sei un fenomeno qui sei oltre l'essere un fenomeno. Certo Rodon è difficilissimo che manterrà queste media IRA per tutta la stagione però comunque si sta candidando a una stagione di altissimo livello chissà magari da Cy Young Award. Fatta l'analisi dell'American League Central proseguiamo con l'American League West una division che comunque è abbastanza equilibrata anche questa perché in prima posizione torna Oakland dopo una partenza orrenda dopo aver vinto una partita sulle prime 8. Oakland infila una serie di vittorie di 13 consecutive per arrivare al primo posto di questa divisione con un record di 16 vittorie e 11 perse e Oakland è una delle squadre che in American League può puntare sicuramente arrivare ai playoff. Sorprendono i Seattle Mariners al secondo posto dell'American League West con 15 vittorie e 12 sconfitte, terza è Houston a 14 vittorie e 12 sconfitte, al 50% dei vittori invece ci sono i Los Angeles Angels o Vanaheim con 12 vittorie e 12 sconfitte. E chiude Texas con 11 vinte e 16 perse in una divisione che comunque è equilibrata, basta pensare che appunto tra la prima e l'ultima classificata ballano soltanto 5 partite. Quello che fa comunque spavento è un giocatore in particolare di questa divisione ed è uno dei miei giocatori preferiti ovvero Showtime, uno dei lanciatori ma non solo più interessanti da vedere e anche dominanti mi verrebbe da dire di questo sport. Uno dei lanciatori, uno dei giocatori più belli da vedere in questo sport perché Otani è stato ricordo preso come lanciatore e questa stagione comunque sta dimostrando di essere anche un lanciatore di livello perché è vero ha vinto soltanto una partita ma la media IRA è 3,29 che comunque è tutto fuorché una media trascurabile, anzi. Quello che fa più spavento di Otani è che il giapponese è anche un signor battitore e prima della sua ultima partenza era il primo giocatore da lanciatore che si presentava come leader di fuoricampo della intera MLB. Perché appunto i suoi fuoricampo sono addirittura 8, appunto segno che Otani è un battitore di primissimo livello. Abbiamo già visto lanciatori che sapevano battere anche molto bene, vedi per esempio Melison Baumgartner che tornerà protagonista in questa Major League Baseball Review. Ma Otani è addirittura di livello superiore a quel Baumgartner che nella prima decada degli anni 2010 faceva anche quello che voleva in battuta. Otani veramente attualmente è secondo in questa classifica dei fuoricampo dell'American League. Il primo è J.D. Martinez, battitore disegnato dai Boston Red Sox. Ma comunque il record di Otani è significativo perché nessun lanciatore sia rappresentato sul monte di lancio o comunque sul terreno di gioco con il maggior numero di fuoricampo della MLB ovviamente a stagioni in corso. L'ultimo fu un tale di nome Babe Ruth che due robe discrete le avrebbe anche fatte qualche anno fa. Continuiamo la nostra analisi per il mondo della MLB passando all'altra conference, la National League, una National League che ancora una volta si dimostra la Lega più equilibrata rispetto alla American League. Ci sono tantissime squadre racchiuse in pochissime partite e questo vale per tutte e tre le division, che sia East, Central o West. Abbiamo veramente tante squadre competitive, segno che anche quest'anno la National League sembra veramente un campionato molto molto interessante. Nella National League East c'è da fare però un'analisi molto particolare perché già sulla carta questa division era veramente un bagno di sangue. C'erano quattro squadre che sulla carta potevano effettivamente giocarsi addirittura il post playoff o vincitore addirittura della division e al termine del primo mese di stagione, seppur qualche squadra abbia qualche partita in meno, ci sono cinque squadre racchiuse in 1,5 partite, veramente niente. In questa division caotica, prima è Philadelphia con 13 vittorie e 13 sconfitte, seconda è Atlanta con 12 vittorie e 14 sconfitte, terza è Washington con 10 vinte e 12 perse, quarti sono i miei New York Mets con 9 vinte e 11 perse e chiudono i Miami Marlins con 11 vinte e 14 perse. Vediamo questi record abbastanza strani per soprattutto Washington e New York perché appunto avendo saltato diverse partite a causa Covid-19 devono essere recuperate più avanti. Fa specie però parlando qui invece dei miei New York Mets che appunto sia un record così deficitario. Addirittura i Mets erano 9 vinte e 9 perse e con un record del genere erano appunto in testa della division, un segno che questa divisione della National League East è equilibrata ma al contrario perché tolti appunto i Philadelphia Phillies che sono al 50% di vittoria non c'è una squadra che abbia un record positivo e a lungo andare ovviamente è difficile che una squadra con record negativo vada ai playoff, soprattutto in una Lega, la National, così assolutamente equilibrata. I Mets devono recriminare tanto invece per quanto riguarda l'attacco, ma lo vedremo nelle statistiche più avanzate, nonostante abbiano un monte di lancio comunque di livello perché non solo hanno De Grom che è un lanciatore che sta dominando assolutamente sul monte di lancio, il problema è che quando scende De Grom in campo per i New York Mets l'attacco dei Mets si dimentica di scendere sul terreno di gioco e De Grom spesso si ritrova a perdere delle partite per 1-0 nonostante abbia fatto delle prestazioni incredibili. Di recente il lanciatore, anche lui nativo della Florida, come Carlos Rodon, ha battuto il suo record personale di strikeout in carriere in MLB con 15 in una partita peraltro, in quel caso per fortuna, vinta dai Mets contro i Washington Nationals. Se Carlos Rodon aveva la media IRA o PGL, chiamatela come volete, più bassa dell'American League, ecco De Grom ha una media ancora inferiore, parliamo di una media PGL di 0.51, la più bassa di tutta la Lega e ovviamente anche della National League ma è questo record che fa specie. Se Rodon aveva 4 vinte e 0 perse, nello stesso numero di partenze De Grom ha 2 vinte e 2 perse. Segno che appunto quelle due partite perse da parte di De Grom sono state perché la squadra ha fatto letteralmente 1 o 2 punti e i Mets complace anche un attacco inguardabile, uno dei peggiori della Lega effettivamente ha pagato la sconfitta per il lanciatore Jacob De Grom e sull'attacco dei Mets poi ci sarà da ragionare perché una squadra costruita per vincere o quantomeno arrivare ai playoff non può avere queste lacune pazzesche in attacco ed è una squadra che sulla carta i nomi ce li avrebbe e invece si ritrova a essere soltanto alla quarta posizione in questa division. Certo è una classifica poco indicativa a maggior ragione perché i Mets e i Nationals hanno perso delle partite causa Covid però insomma anche il fatto che siano tutte lì nonostante stiano di fatto tutte partendo al ribasso può dare speranza per randrizzare un mese di aprile, abbastanza disastroso. Quello che sorprende è anche la National League Central, una National League Central che vede i Milwaukee Brewers primi con 16 vinte e 10 perse e i St. Louis Cardinals sono 14-12, sorprendono i Cincinnati Reds 12 vittorie e 13 sconfitte per la squadra che ha il miglior attacco di questa Major League Baseball quarti sono ancora i più sorprendenti i Pittsburgh Pirates, squadra che da chiunque era data come la peggiore della Lega trentesima, una squadra molto giovane in piena rifondazione che doveva essere disegnata secondo gli algoritmi e i power ranking all'ultimo posto della divisione e anche di tutta la Lega prendendo in considerazione tutte e trenta le squadre e invece Pittsburgh sta facendo una stagione molto dignitosa per le potenziali della squadra ripeto squadra giovane, certo viene dalle sconfitte consecutive, certo 12 vittorie e 13 sconfitte sono assolutamente un record molto interessante per una squadra che obiettivamente aveva altre ambizioni di bassa classifica i Pittsburgh Pirates peraltro si tolgono il lusso di battere per il momento in questo mese di aprile i Chicago Cups, squadra obiettivamente più titolata sulla carta dei Pittsburgh Pirates ma che in questa stagione non sono un fattore, anzi quelli forti di Chicago sono gli altri quelli della parte sud, quelli della parte nord che giocano nello straordinario Wrigley Field sono ultimi a 11 vittorie e 15 sconfitte se abbiamo visto dell'equilibrio invece sulla National League East e sulla National League Central c'è dell'equilibrio anche nella National League West e questo invece è meno scontato perché incredibilmente non solo c'è equilibrio ma i Los Angeles Dodgers campioni in carica e obiettivamente la corazzata di questa stagione 2021 non sono primi ma sono dietro mezza partita ai sorprendenti San Francisco Giants altra squadra di nome assoluta che però è da anni che sta facendo veramente fatica in queste ultime stagioni San Francisco è prima con 16 vittorie e 10 sconfitte seguono i Los Angeles Dodgers con 16 vinte e 11 perse i terzi sono i San Diego Padres con 15 vinte e 12 perse quarta è Arizona 14 vinte e 12 perse e chiudono i Colorado Rockies che invece è giusto che stiano lì perché come Detroit detto nella American League Central sono una squadra anche loro in tanking in piena rifondazione ma tolti i Rockies ci sono quattro squadre che se la stanno giocando e hanno tutte le proprie eccellenze i Dodgers l'abbiamo detto sono un collettivo di squadra pauroso San Diego l'abbiamo già parlato diverse volte già in questi video di prestagione e anche nell'ultimo video sono una squadra dal potenziale offensivo incredibile Arizona è una squadra comunque non trascurabile e Arizona in questo periodo è entrata anche nella storia perché è stata lanciata la prima unofficial no hitter ed è un altro dei temi caldi di questo video la lancia peraltro un lanciatore non banale ovvero Madison Bungarner che fece le fortune dei San Francisco Giants nella prima decada degli anni 2010 quando soprattutto vinse i tre titoli tra 2010, 12 e 14 in particolare quello del 2014 Bungarner di fatto lo vinse da solo Bungarner è ancora in attività il pitcher con la media PGL inferiore della storia delle World Series e ha lanciato di recente contro gli Atlanta Braves la prima unofficial no hitter perché unofficial? bisogna ricordare un regolamento il regolamento di questa stagione ci dice che in caso di double header quindi quando si giocano due partite al giorno vedi per esempio quando c'è un recupero per un rinvio di solito viene recuperato il giorno dopo una partita viene giocata appunto ai sette inning così come quella della sera Bungarner una di queste due partite da sette inning era partente e ha lanciato come vedremo dalle statistiche una no hitter quindi non ha concesso valide agli avversari un po' quello che è successo a Carlos Rodon ma su nove inning secondo diciamo gli scorer ufficiali della Lega viene diciamo questa rimarcata come una no hitter non ufficiale perché appunto la tradizione vorrebbe che le no hitter venissero diciamo confezionate sui nove inning il regolamento però appunto dice che in caso di double header le partite debbano essere giocate sulle sette riprese e dunque questa è di fatto una no hitter a tutti gli effetti la partita è contro gli Atlanta Braves giocata il 25 aprile tra l'altro in Italia festa della liberazione e che appunto ha visto gli Arizona Diamondbacks vincere 7 a 0 contro i Braves Bang Garner ha lanciato una no hit ed è la prima per gli Arizona Diamondbacks squadra da cui è emigrato dai San Francisco Giants con questa prestazione Bang Garner va a risollevare una stagione che è partita veramente male e tra poco vedremo le sue statistiche ma per me questa di Bang Garner è una no hitter ufficiale a tutti gli effetti non esiste una unofficial o qualunque altro termine che tenga perché se il regolamento ti dice che in caso di double header la partita debba essere giocata su sette riprese e su nove allora una prestazione sontuosa di un lanciatore straordinaria come Bang Garner deve assolutamente avere un diciamo posto nella storia del gioco già è difficilissimo fare una no hitter se in più viene declassata da un termine non ufficiale quando in realtà il regolamento prevede che questa partita sia effettivamente valida in tutto e per tutto anche su sette riprese per me la prestazione di Bang Garner è una no hitter che va a equipararsi a quella di Joe Masgrove a quella di Carlos Rodona e a tutte le altre no hit che abbiamo visto nella storia e anche nelle stagioni passate ed è una prestazione quella di Bang Garner che va a risollevare in parte la sua stagione e dico in parte perché le statistiche sono abbastanza impietose per il lanciatore della North Carolina 3 vinte e 2 perse in 5 partenze anzi in 6 con una media PGL però di 5,58 veramente alta per appunto un lanciatore che ha fatto la storia di una franchigia e di questo sport all'epoca era un lanciatore veramente dominante 5,58 era una media che all'epoca Bang Garner non si sognava neanche dipinta qui invece deve fare i conti con una partenza shock nelle prime due partite aveva una media PGL a ridurre di 12 poi con 3 vittorie consecutive e una no decision di fatto Bang Garner ha risollevato le sue statistiche e comunque nella storia di questa stagione per questa unofficial no hit la chiameremo così ma per me ripeto è una no hit ufficiale a tutti gli effetti e voi appassionati di Facebook mai guarderete questo video ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate di questa prestazione suntuosa di Bang Garner e se anche secondo voi se questa no hit può essere considerata al pari delle altre oppure no per me è assolutamente sì evidentemente per la Major League non è proprio così concludiamo la nostra analisi mensile della Major League Baseball con le statistiche avanzate semplicemente andiamo a vedere chi sono i migliori dal punto di vista offensivo e difensivo della Lega partendo dalla miglior squadra per media battuta e sono i Chicago White Sox di tutta la Lega e anche i primi della American League le prime quattro squadre offensive sono della American League abbiamo Chicago White Sox i Los Angeles Angels i Boston Red Sox e gli Houston Astros mentre appunto i primi della National League sono gli insospettabili i Cincinnati Reds che stanno facendo una stagione più che dignitosa soprattutto basandosi sull'attacco cosa molto importante in questo gioco certo alla lunga non mi auguro di vedere i Cincinnati Reds così in alto perché dovrebbe compensarsi comunque con un monte di lancio di un certo livello cosa che appunto i Reds non hanno stupisce che per esempio in questa classifica i Los Angeles Dodgers siano dodicesimi in questa classifica con una media battuta di 234 per quanto riguarda i May New York Mets sono a un onesto tra virgolette sedicesimo posto ma è una posizione appunto deficitaria per una squadra costruita prevalentemente per arrivare a vincere la division National League East una division che può essere vinta non solo con un monte di lancio spaventoso ma anche con un attacco che comunque deve dare il suo e obiettivamente uno degli attacchi peggiori della Major League Babers sono appunto i New York Mets cosa che appunto come ho già detto non dovrebbe essere così ma ripeto siamo ad aprile vedremo se nei prossimi mesi sarà così i peggiori attacchi invece in assoluto li vediamo e andiamo dalla 25esima posizione in giù abbiamo i Chicago Cups 25esimi e sono anche per questo motivo ultimi nella loro division seguono i Milwaukee Brewers che invece sono primi nella stessa division ma lì è perché come vedremo hanno un monte di lancio veramente fantascientifico gli Oakland Athletics che sono sempre stati una squadra di fuoricampisti soprattutto in tempi recenti stanno facendo molta fatica ma anche in questo caso il monte di lancio come vedremo li salverà chiudono i Seattle Mariners i Cleveland Indians e appunto i Detroit Tigers squadra anche loro in rifondazione i Detroit Tigers addirittura di squadra i Detroit Tigers addirittura di squadra non arrivano neanche a media 200 complessiva dato che fa abbastanza spavento andiamo a vedere invece i monti di lancio delle varie squadre la prima della National League e di tutta la Lega è San Diego che appunto ha fatto una campagna acquisti molto strutturata su questo aspetto ha migliorato esponenzialmente il monte di lancio e infatti ha la miglior media di punti guadagnati sul lanciatore di tutta la Lega con 2,87 appena sotto ci sono i New York Mets i San Francisco Giants e i Los Angeles Dodgers e quindi sono i New York Yankees che invece abbiamo visto hanno il 24esimo attacco della Lega i Milwaukee Brewers che invece ho citato prima come uno dei peggiori attacchi che sono appena dietro con 3,27 punti concessi a partita è indubbio che comunque queste classifiche danno già un'idea di chi siano i migliori da questo punto di vista ci sta che San Diego sia appunto prima nel monte di lancio ci sta invece un pochino meno che appunto i Cincinnati Reds siano il miglior attacco della Lega eppure hanno un monte di lancio abbastanza disastroso perché se andiamo a vedere la classifica appunto come dicevo i Cincinnati Reds hanno il 26esimo monte di lancio della Lega con 4,78 punti concessi a partita seguono i Chicago Cubs che sono ultimi nella loro division quindi hanno anche un problema da quel punto di vista 28esimi sono gli Atlanta Braves 29esimi i Detroit Tigers e chiudono i Los Angeles Angels che ancora una volta peccano da un punto di vista del monte di lancio che è il vizio storico della formazione di Los Angeles che ha il giocatore più forte del gioco dell'era moderno ovvero Mike Trout a Anthony Rendon che è un signor terza base a Albert Puchels che come battitore disegnato è ancora a 40 passa anni un giocatore di livello assoluto e ha quello Shuaio Tani che vi ho fatto vedere prima avere delle statistiche veramente incredibili il monte di lancio però in generale dopo Otani non ha veramente nessuno ed è anni che i Los Angeles Angels devono rinforzarsi sul monte di lancio hanno sempre preso i giocatori furtissimi offensivamente ma il monte di lancio è sempre mancato ed è per questo che la squadra di Los Angeles non arriva dai playoff da qualche anno l'ultima apparizione vi ricordo fu nel 2014 vedremo comunque se il monte di lancio degli Angels migliorerà e se questa classifica in generale così come quella della Major League Baseball in generale andrà a cambiare nel prossimo appuntamento mensile della Major League Baseball Review che sarà il 2 di giugno quindi save the date per avere ancora una volta un video corposo e lungo sulla Major League Baseball o come lo chiamiamo noi qui in Italia il meraviglioso gioco del baseball fatemi sapere cosa ne pensate dunque di questa analisi di come vedete la vostra squadra del cuore in Major League iscrivetevi se ancora non l'avete fatto il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo domani con il post gara del Gran Premio di Portogallo di Formula 1